La tua azienda unica di trasporto regionale si è dotata di una moderna e funzionale sala operativa multifunzionale sita nella sede di Pescara. Questa mattina i vertici dell'azienda hanno illustrato le novità sui servizi di trasporto anche in coincidenza con il recente avvio dell'anno scolastico. L'obiettivo è quello di far viaggiare l'utenza in massima sicurezza. Quando noi abbiamo iniziato questo nuovo consiglio di amministrazione, ha cominciato a lavorare per cercare di risolvere delle problematiche e si è trovato con autobus obsoleti e con una serie di notizie che erano frammentarie. È evidente che per quello che riguardava l'avere uscita dei mezzi abbiamo provveduto nei limiti delle risorse a disposizione ad acquistare più di 159 mezzi e tutti questi mezzi acquistati hanno un computer di bordo. Però questo sarebbe stato evidentemente inutile se non avessimo creato contestualmente le condizioni per i quali con un sistema come quello che c'è in questo momento in sala operativa noi potessimo raccogliere dagli autobus stessi tutta una serie di notizie che metteremo a disposizione sia delle nostre strutture per offrire un servizio migliore e con maggiore sicurezza ma anche e soprattutto a tutto il sistema regionale che dovendosi occupare della decisione di dove e come sviluppare percorsi per la regione Abruzzo avranno notizie di prima mano e sicuramente puntuali. Noi abbiamo l'immediato conteggio delle persone a bordo quando si sta arrivando all'80% noi abbiamo la segnalazione e se ci sono persone che sono rimaste alla fermata senza possibilità di salire in pochi minuti creiamo le condizioni perché ci sia un bis e quindi ci sia un autobus che diventa di servizio per le persone che non hanno potuto prendere il primo pullman. La comunicazione avviene in automatico dal computer di bordo sull'autobus alla sala operativa quindi noi siamo costantemente in condizione di avere tutte le notizie che ci consentono in tempo reale di fare le scelte più opportune per cercare di risolvere queste problematiche. Qui sapremo qual è il numero complessivo delle persone che utilizzano gli autobus in quali posti è necessario rafforzare le corse perché c'è una maggiore richiesta in quali posti si possono creare condizioni per le quali corse sovrapponibili possono essere eliminate ci saranno tutte le notizie per creare condizioni di razionalizzazione del trasporto ma in questa fase lo rivediamo in cui la percezione del sovraffollamento che in alcuni casi non c'è perché noi sugli autobus non superiamo mai l'80% previsto dalla legge ma ci rendiamo conto che un clima particolare in questo momento fa sì che vedere tutti quanti i posti a sedere occupati e ad alcuni posti in piedi possa in qualche misura indurre le persone a pensare ad un sovraffollamento ma così non è. I libretti delle nostre macchine prevedono qual è il totale delle persone trasportabili normalmente e noi rispetto a quei libretti come previsto dalla legge facciamo salire soltanto l'80%.